Buongiorno Corso Mazzini, Wise Boutique, ci troviamo qui perché qui è appena arrivato lo staff tecnico Vanoli. Dopo la vittoria di ieri alla memoria della Barcella contro l'obiettivo lavoro Bologna, è tempo di vestirsi, è tempo di iniziare questa nuova partnership con Corneliani che ha scelto appunto Vanoli come marchio sostanzialmente. Vanoli indosserà Corneliani per tutta la stagione e allora noi siamo qui per farci un po' i fatti loro, insomma come spesso ci capita fare dato che ci piace farlo e allora se adesso Francesco Sessa è il nostro operatore e mi segue andiamo subito da Andrea Conti General Manager a cui chiediamo insomma come stanno andando le prove, eccolo qua con un maglione giallo, io adesso non è che sono un asso, ci vorrebbe più la collega Federica Bandirali, però Andrea intanto buongiorno, vedo che più o meno è mezz'ora che hai addosso questi vestiti, non te ne vuoi liberare? No, no, sono bellissimi, infatti li tengo anche per la prossima comunione delle mie figlie, quindi da qualche anno. Quindi insomma i vestiti con cui sei venuto li hai messi in una busta e tu uscirai così? Esco così, esco così dal negozio. Perfetto, perfetto. L'abbinamento ti soddisfa? Giallo con grigio? Devo dire questo giallo ocra molto bello e la giacca blu anche. Peraltro è il perfetto pandan anche col microfono, vedete, giallo con giallo, il suo come diceva è più ocra, il nostro non so è più canarino? Tu te ne intendi più di me? Un canarino di Cremona 1 contro un giallo ocra vanoli dai. Ecco, non vogliamo sapere chi vince, allora lasciamo Andrea continuare a provare i suoi abiti, noi allora Francesco seguimi perché ci spostiamo dall'altra parte della boutique per anche scambiare un po' due parole con chi si sta occupando insomma fisicamente e concretamente dell'abbigliamento dello staff tecnico vanoli e infatti lo troviamo in fondo assieme a uno dei secondi allenatori Roberto Spoto, il team manager Michele Talamazzi e Beatrice Placchi della segreteria. Allora chiedo scusa, chiedo scusa, eccoci qua, allora mi metto, scusa se ti passo davanti, ok, allora raccontaci un po', intanto spieghiamo, tu sei? Roberto il responsabile del reparto uomo di Wise. E dici subito se è la prima volta insomma che ti ritrovi a vestire un intero staff tecnico o se ti è già capitato? No, così, così alti e così grossi è la prima volta soprattutto, però l'idea è nata quest'estate con Michele e di fare questa collaborazione nuova e dare un aspetto anche al basket un pochino più fresco, quindi con divise un po' più grintose che si avvicinassero un po' a quelle del calcio, quindi per dare anche una nuova visione, insomma, questo sport che sta crescendo come abbiamo visto negli europei. Ecco, ha toccato anche un tasso dolente dato che siamo usciti ieri sera, è andata bene, ma insomma c'è ancora speranza per il preolimpico, senti ma avete tutti gli avidi che avete sono pronti, diciamo così, o dato che c'è gente che supera i due metri avete dovuto? No, ci siamo affidati a Corneliani che nel settore sono il top e quindi hanno fatto abiti su misura, poi ci pensiamo noi a sistemarli, però siamo già allineati. Per chiudere, diciamo così che lo staff tecnico Vanoli quindi indosserà l'intera linea per tutta la stagione, vedremo delle sorprese, nel senso vedo la tua giacca ad esempio che va un po' al di fuori dell'ordinario, cioè potremmo vederli anche con addosso giacche del genere, coach Pancotto piuttosto che... Così tanto no, però abbiamo incominciato con un po' di colore che di solito nelle divise ufficiali non si era mai visto un cardigan giallo che riprende un po' i colori appunto della società e uno spezzato, giacca blu con pantalone griso appunto per uscire dal solito discorso ordinario delle divise delle squadre, dare un po' di grinta alla squadra, speriamo che porti bene. Ultima battuta, li hai visti un po' assonnati stamattina quando sono arrivati perché ieri hanno vinto la partita, magari dopo hanno festeggiato, non lo so eh? No, secondo me sono in forma strepitosa. Ok, ok, ci fidiamo allora, ci fidiamo. Grazie Roberto, io restituisco la linea allo studio, a te Cristina, a te Giovanni.